Don Claudio, oltre ad essere il cappellano del cappella qui dell'ospedale, lei è uno psicologo e quindi chiaramente in questo momento così difficile per le vittime del naufragio, i loro parenti, quelli che sono rimasti in vita, credo che lei abbia fatto qualcosa per loro. La presenza, la visita, perché c'è stata un'organizzazione perfetta da parte anche dei sanitari, della struttura ospedaliera, molta gente ha portato degli indumenti, ognuno si è mosso, perché scatta quel meccanismo della solidarietà. Ed è vero che queste situazioni dovrebbero aiutarci a riflettere, perché sono persone che hanno lasciato la loro terra, sono persone che hanno vissuto questa esperienza di pericolo, di sofferenza, di morte, e quindi ci sono tutta una serie di perdite che hanno vissuto nella loro esistenza, anche i superstiti, coloro che sono sopravvissuti, oltre all'esperienza del lutto, del dolore, della separazione, della perdita, delle persone care, si portano dentro anche la perdita, una perdita geografica, hanno perso la loro terra. E quindi noi siamo invitati a riflettere e anche ad apprezzare quello che abbiamo. C'è una grande insoddisfazione nell'uomo di oggi, l'uomo vive frustrato, invece abbiamo bisogno di comprendere come tutto quello che noi abbiamo è un dono, una ricchezza, sono delle risorse che noi abbiamo dentro, e quindi siamo chiamati veramente a vivere pienamente questa vita. E soprattutto non possiamo dimenticare che queste persone sono portatori e portatrici di dignità. La persona, in quanto persona, è una risorsa, perché la persona, nell'ottica cristiana, è segno e presenza di Dio, quindi noi siamo chiamati a scrutare dietro l'immagine di questi nostri fratelli, che possono sembrare strani, i forestieri. Siamo chiamati a accogliere il volto radioso di Dio, di un Dio che, secondo il Vangelo, chiede ospitalità. C'è un brano del Vangelo interessante, Matteo 25, è una scena che Matteo colloca nel suo Vangelo per aiutarci a comprendere che il giudizio finale sarà sull'amore, sulla carità. E Gesù si identifica con il povero, si identifica con l'ammalato, si identifica col profugo, con il carcerato. Cioè, sono queste presenze di povertà che potremmo dire che sono un sacramento di Cristo. Cristo è presente nell'eucaristia, nella sua parola, è presente nella liturgia, nelle celebrazioni, ma è presente sacramentalmente anche nei poveri.